Il simbolo di Venezia è la gondola. Quindi ognuno con la gondola si porta a casa un pezzo di città, un pezzo di Venezia. Questo è il fascino che ha questa barca. Abbiamo cominciato a parlare di cosa si poteva fare tra Venezia e Nuova Venesa e io proposi di far regalare da Venezia una gondola. La gondola è la gondola che vende da Italia per amare la Venezia Santa Catarina. Questo è il miglior simbolo cultural e turistico di Venezia da Italia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Tu pensa che fanno le maschere veneziane qua in Brasile. A Venezia le comprano in Cina. Dopo la gondola sta diventando questo aspetto la venezianità. A Venezia le comprano in Cina.